La professoressa Giuliana Martirani, ex docente dell'Università di Napoli, ha una biografia vastissima, scrittice di grandi libri, questa sera ha tenuto quasi un trattato, incominciando anche, descrivendo bene alcune pagine, parlando anche di padre Puglisi e finendo a fare una grande illustrazione di quello che sono anche i motivi etici di una scelta, restando nel tema proprio di testimoni e di giustizia per arrivare alla verità. Sì, cosa dire, noi possiamo imparare ad essere cittadini oltre che cristiani, con un maggiore senso civico, una maggiore compattezza comunitaria tra di noi, per poter fare una vita buona, perché poi in definitiva tutti vogliamo fare una vita buona, una vita migliore, una vita non sottoposta a stresse e ansie che ci vengono da persone che vogliono sottoporci ai loro martieri. Professoressa, grandi parole, ma lei anche si è espressa in modo molto semplice, raccontando episodi di vita quotidiana che le appartengono, per significare che la coerenza e la credibilità sono le prime basi per combattere gli atteggiamenti mafiosi. Ma fondamentalmente credo che bisogna avere una passione per la vita, imparare ad amare la vita, il desiderio di viverla, bene, bene, perché ne abbiamo una sola e quindi non si tratta solamente di viverla noi, ma tutti quanti, viviamo tutti in un contesto. Una volta che io sono andata in Brasile, perlomeno 30 anni fa, e vidi che c'era il negozio, il grandissimo supermercato in cui si vendeva ogni bene e a fianco un piccolo negozietto in cui si vendeva zampe di galline per i poveri, ma me ne andai da quel viaggio dicendo ma i brasiliani sono matti, tutti brasiliani, non solamente, cioè come potevano permettere delle persone ricche che quelli li mangiassero le zampe di galline, cioè come può un fratello permettere ad un altro fratello una cosa del genere? E poi ritornai a Napoli e dissi ed io a Napoli ecco che mi trovavo con lo scampia. Convegno sui testimoni di giustizia, qui nel salone parrocchiale di Soverato, il numero uno di questo convegno ovviamente è inserito in un programma di protezione, il signor Giuseppe Carini. Giuseppe, questo impegno, questa scelta difficilissima che sicuramente è costata tanti sacrifici, innanzitutto vorremmo sapere da cosa è nata? E' nata tutta da un incontro, un semplice incontro con un sacerdote che ha segnato profondamente la mia vita e con il quale ho fatto un percorso di vera e propria conversione umana che poi diciamo si è tradotta nella pratica attraverso la mia testimonianza nel processo contro i mandanti e gli esecutori materiali del suo omicidio. I suoi parenti l'hanno seguita in questa scelta? No, purtroppo loro sono state vittime di quella cultura del silenzio e dell'omertà, ma il fatto che i miei familiari non hanno gradito la mia decisione, questo non fa avvenire meno la scelta che ho fatto che rimane ancora intatta nella sua natura. Quanto è difficile la vita di un testimone di giustizia? Che spieghiamo bene, non è da confondere con un collaboratore di giustizia che è tutta altra cosa, vuoi dirlo tu? Sì, il collaboratore di giustizia è un ex appartenente all'organizzazione criminale e quindi che decide di collaborare con lo Stato sulla base di una scelta che è raramente di natura etica. Il testimone di giustizia è un cittadino libero che decide appunto di riferire all'autorità giudiziaria quanto è di sua conoscenza, ma lo fa per dovere civico. Sì, vi sono delle difficoltà legate allo Stato sui testimoni di giustizia, ma ripeto, intanto ciò non toglie che la scelta di testimoniare e di dare il contributo per liberarci dalle organizzazioni mafiose venga a meno, perché vede la cosa fondamentale nella scelta di un testimone è proprio questo, è l'amore per la propria regione, l'amore per il proprio paese che lo spinge anche a mettersi in gioco e persino a sacrificare alcuni aspetti della propria vita, ma sempre e comunque a tutela della democrazia di questo paese. Quanto lo Stato rimane vicino ad un testimone di giustizia? È un percorso questo, come si diceva, un work in progress, sta migliorando, certamente vi sono ancora molte altre cose da fare, però una notizia positiva penso che la si possa dare e sono due. Uno è che nella riforma della pubblica amministrazione il governo Letta ha previsto per i testimoni di giustizia la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro e questo è un fatto davvero importante perché dà una risposta a quel salto del buio del testimone una volta terminato il programma. Altra notizia positiva invece viene dall'Europa, dalle commissioni europee antimafia presieduta da un deputato italiano, Sonia Alfano. questa commissione europea ha di fatti approvato un atto di indirizzo politico fondamentale che permetterà di avere in Europa domani una legislazione omogenea per tutti i paesi europei in materia di testimoni di giustizia. Quindi ripeto, vi sono difficoltà ma certamente si va avanti e credo che si possa arrivare a condividere a situazioni molto migliori. Giuseppe in Sala erano presenti molti giovani, non a caso perché la scuola, l'ufficio scolastico regionale ha abbracciato e supportato questa iniziativa. Cosa ti senti di dire ai giovani? Intanto mi permetto di condividere pienamente quello che lei ha affermato perché qui abbiamo visto l'espressione dello Stato attraverso le forze dell'ordine, altra espressione della società civile, la parrocchia, le scuole, gli scout, le istituzioni regionali. Quindi questo è per dire semplicemente che cosa? Che se stiamo tutti uniti in un unico fronte questa è una battaglia contro le mafie che potremmo sostenere. A giovani cosa mi sento di dire? Intanto di mettersi in gioco e di avere il coraggio di scandalizzarsi di fronte a ciò che non va nella nostra regione o nel nostro territorio e che in questo paese è possibile un nuovo rinascimento, è possibile farlo.